Approfitto di questa comunicazione per fare un po' il punto della situazione. Abbiamo terminato i lavori di realizzazione della serra e può finalmente operare a pieno regime. Fortunatamente perché gli effetti secondari del cibo liofilizzato cominciavano a farsi sentire prepotentemente. Risolto quindi questo problema possiamo dedicarci completamente alla costruzione del mulino fotovoltaico che ci permetterà di ottenere l'energia necessaria al corretto funzionamento della stazione. Ma chi è che ha lasciato aperta la porta dell'incubatrice solare? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui è il tuo migliore amico computer di bordo che parla. Hai attivato il ricostruttore di memoria. I tuoi occhi sono pesanti. Abbandonati alla mia voce. Ora sei il mio potere e farai tutto ciò che ti odino. Nessuno può rivelare ciò che hai scoperto devi completare la missione che ti è stata assegnata sin dal principio. Uccidele tutti. Uccidele tutti. Uccidele tutti. Uccidele tutti. Uccidele tutti. Uccidele tutti. Uccidele. Uccidele. Uccidele tutti. 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 Grazie.